Musica Benvenuti nel parco di Portofino Dove siamo adesso? A San Rocco di Camogli Si sente già la campana delle 10 e mezza della chiesa E adesso tra veramente due minuti neanche arriviamo alla panetteria La galletta del marinaio dove compreremo una focaccia fantastica Si è preso la cosa buona Si è preso la cosa buona Grazie a te! Allora siamo arrivati a? Che si chiama così perché sta il passo in mezzo a queste pietre, stretto fra due pareti di roccia, pietre strette, che è uno spettacolo e c'è la focaccia, esatto, com'è la focaccia? Buona, è finita però, vero? Bentornati tantissimi chiedi spettatori, siamo in Liguria, più precisamente nella costa Ligure, sull'Appennino Ligure, questi sono tanti sassi cementati da sabbia e altre cose, e si chiama il conglomerato di? Il conglomerato di Portofino, e ci sono anche delle pietre bianche che sono quarzi, tipo quella lì, vedi Giulia? E ci sono tante pietre bianche che sono proprio quarzite, sì, ok. 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 , ok. Sì, ok.